Allora, intanto noi stavamo chiacchierando, siccome fuori onda vengono fuori cose interessantissime che poi non si riescono a tirare fuori. Riprendiamo questo discorso dell'artigianalità, del riconoscimento e appunto lei diceva continua innovazione, innovazione di prodotto. Un attimo solo. Buongiorno, amo il gelato e vi dico che siamo arrivati ad un livello di gusto talmente alto che non si riesce più a distinguere l'uno dall'altro. Allora, qui si collega alla ricerca. Lei diceva, Presidente Bano, che bisogna continuamente innovarsi perché anche i nostri sensi si annoiano altrimenti, no? E questo è sia per la industria dolciaria, in qualche modo, ma anche per l'artigiano. Beh, sicuramente per noi artigiani che abbiamo la possibilità di innovarci velocemente e rapidamente e soprattutto collegarci a quelli che sono i prodotti del territorio. Per cui è fondamentale per noi gelatieri artigiani cercare di alzare sempre di più la qualità proprio per fidelizzare con la nostra clientela e dare sempre un prodotto che sia al top sotto questo aspetto. E come si fa? Beh, diciamo che... Perché se non c'è un protocollo, non c'è una scuola, non c'è... che come fate? Per adesso è lasciato alla buona volontà appunto di noi gelatieri artigiani e poi devo dire che dietro al lavoro c'è anche tanta passione, per cui a chi piace lavorare, a chi piace essere nel mondo del gelato sicuramente la passione fa sì che questo continuo a ricercare, innovarsi, fa sì che si vada sempre avanti. Lei, la domanda che non avevo fatto, ancora non aveva risposto 40 anni fa rispetto ad adesso, cosa ha cambiato nel suo fare il gelato? Quindi vediamo anche qua le differenze. Beh, niente, senz'altro con l'andare del tempo si cambiano i gusti delle persone, si provano prodotti nuovi, come diceva lui, senz'altro c'è un ritorno ai gusti del territorio, quindi cercare... Quindi lei prende, faccio l'esempio, le giugiole e dice ma facciamo il gelato alla giugiole? Sì, beh, sì, perché no? Sarebbe un po' macchinoso da fare, perché tirare via tutti gli ossetti e le giugiole è un po' macchinoso, però quelle cose lì le abbiamo già fatte, perché abbiamo fatto nel 2004 il Guinness con 524 gusti di gelato, quindi ci siamo sbizzariti a fare gusti nuovi e strani. E il cliente che cosa preferisce? Cioè che cosa notate nella risposta, nella scelta a questo punto? Perché poi ci sono i vari secchi, c'è quello che finisce prima, finisce sempre, e quell'altro invece che resta. Quindi là che cosa notate nel tempo? Il cliente vuole sempre la novità, però dopo... Ah, vuole la novità. La chiede sempre, o comunque chiede sempre cosa c'è di nuovo, però dopo di che c'è sempre comunque una tradizionalità nel mangiare cose, ci sono i miei gusti che sono quelli classici, nocciola, panna, cioccolato, pistacchio, che adesso sta scoprendo una nuova vita, grazie a molti gelatieri che stanno usando il vero pistacchio e non... Eh, esatto, non qualcosa di vero. ...roba colorata, in genere viene fatto con della zucca cotta e colorata il pistacchio una volta, perché costava troppi soldi. Invece adesso molti bravi gelatieri usano un pistacchio, non dico Bronte perché ormai è una chimera, perché Bronte è una collinetta, però un pistacchio italiano-siciliano senz'altro... Fa la differenza. Fa la differenza, sì. Quindi i gusti delle creme classiche, queste sempre, dopo senza disdegnare la novità. Buongiorno, conosco il signor Bano e il suo è veramente un ottimo gelato, anche se ad Abano ho visto crescere nuove realtà interessanti, bravi. Sì, beh, sicuramente ad Abano si presta perché ovviamente è una città turistica, è una città internazionale, poi tra l'altro la maggior parte della clientela è tedesca che apprezza il prodotto, di conseguenza ovviamente è un bacino favorevole per quello che riguarda il consumo del gelato artigianale. Però diciamo che il Veneto a livello nazionale è la seconda regione per consumo di gelato e per gelaterie. Ah sì? Sì, 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 c'è una grossa tradizione. E diciamo che i Veneti, in particolare i Zoldani e i Cadorini, hanno esportato in tutto il mondo, specialmente nei paesi del nord, il gelato artigianale in Germania e grazie ai Zoldani e ai Cadorini che c'è il gelato artigianale come pure in Austria, in tanti altri paesi del nord Europa, proprio hanno colonizzato, colonizzato, nel senso che 50-60 anni fa c'erano interi paesi del Cadorino, del Zoldano che si trasferivano nelle città tedesche e austriache a fare gelato con i famosi carettini. Ma perché? Perché faceva più freddo d'inverno? Perché diciamo che quelle zone erano zone dove si pativa tanto la fame e invece nel nord Europa, Vienna in particolare, e le grandi città tedesche, vi era abbastanza ricchezza e di conseguenza si spostavano in quelle zone proprio perché loro conoscevano l'arte di trasformare quello che è il prodotto in gelato e lo andavano a vendere nelle città tedesche e austriache che inizialmente avevano dei garage dove facevano il gelato e poi andavano quei carettini, poi un po' alla volta hanno acquistato dei locali, si sono fatti i laboratori e adesso effettivamente sono una grossa realtà che purtroppo si è un po' fermata proprio per causa crisi e covid praticamente ormai anche i giovani Cadorini e Zoldani non amano più fare questo lavoro. Ai ai ai, però diciamo che anche nel centro Italia e penso la zona del Lazio-Roma hanno un ottimo gelato. Ottimo gelato. Da me avevano detto, dopo non so se è vero, che uno degli ingredienti importanti è anche la qualità del latte senza dubbio, ma anche dell'acqua, è così? Sì, questo è vero, anche l'acqua è importante proprio perché la caratteristica di un prodotto che è il sorbetto, la caratteristica principale è appunto l'acqua. Di conseguenza è importante che ovviamente non abbia, che ovviamente che sia dal punto di vista igienico-sanitario a posto e soprattutto che non abbia sapori, retrosapori di cloro sotto questo aspetto. Questo è un problema per certe zone da noi, effettivamente. Qualora, so di tanti colleghi in centro Italia, a Meridione, che magari hanno degli acquidotti che non sono proprio, che c'è un retrogusto di cloro, sono costretti a farlo con l'acqua minerale, per dire. Ebbè, infatti sì. Qual è un ingrediente che per lei è fondamentale, per il quale bisogna andare a cercare il fornitore giusto, non si può transigere? Perché io parlo con tanti pasticceri e mi dicono il burro, no? Per alcuni è proprio il burro, bisogna fare ricerche, per molti per alcuni anche la farina. Per lei che cos'è? Beh, sono tutti, perché su gelato comunque non c'è mica solo il latte, senza altro il latte, panna, ma poi tutta la materia prima va ricercata con cura nel nostro settore, perché è quello che fa la differenza rispetto all'industria. Noi abbiamo la freschezza, abbiamo la possibilità di avere cose particolari che l'industria non può assolutamente avere perché per via di tempi di stoccaggio troppo lunghi i prodotti che devono essere consumati in una maniera più veloce, diciamo, rispetto a un industriale, quindi si possono usare prodotti con gusti diversi, perché comunque la conservabilità di un prodotto cambia anche il gusto. Infatti la mantecatura e il fatto che o il gelato deve restare lì a riposare, ci sono un po' due filosofie di pensiero, l'ho sentito, è così, cioè c'è chi dice il gelato va appena fatto, mantecato e tutto, adesso con le macchinari che ci sono anche adesso, che aiutano moltissimo, è molto più buono, altri dicono no, deve stare lì a riposare. Com'è questa storia? Diciamo che per quanto riguarda la qualità, la miglior qualità, sicuramente la miscela deve essere pastorizzata, poi raffreddata a 4 gradi, poi lasciata a maturare 8 ore, dopodiché si passa alla mantecazione, fatta la mantecazione si fa l'abbattimento, perché il gelato fuoriesce a meno 9, meno 10 dal mantecatore, poi bisogna portarlo a meno 15, che è la temperatura di lavorazione del prodotto. Di lavorazione meno 15? Sì, meno 14, meno 15, insomma, ecco, questa è la temperatura con cui poi il gelatiere distribuisce il gelato alla propria clientela. Per lei? No, beh, questa qua è una vecchia diatriba tra, si chiama metodo con maturazione o metodo con shock termico, sono entrambi validi, non ce n'è uno migliore dell'altro, perché se fosse uno migliore tutti farebbero quello, ognuno nella sua bottega pensa di fare, adotta uno o l'altro, in base alla propria esperienza, o in base al proprio punto di vista, comunque socialmente non sono così diversi, è solo questione di approcciare un problema. In un modo, con una metodica anziché con un altro. Qua stiamo vedendo delle foto di Padova, tra l'altro anche. Sono nel 2004 questo. Marzo 2004. Tra l'altro che Padova detiene ancora, nel senso che detiene ancora il record del mondo di gusti di gelato. Ah sì? Dopo tanti anni, sì. Dopo del numero di gusti prodotti. Sì, 521 gusti abbiamo realizzato, sono stati omologati, registrati, tutti esposti, in piazza Cavour. Aspetta, che bel evento questo. Sì, sì, sì. Ma si ripete ogni anno oppure è stato? No, no, no. Diciamo che purtroppo le condizioni anche economiche sono mutate drasticamente, di conseguenza è stato fatto quell'anno e poi non ci sono state più le condizioni per poterlo ripetere, purtroppo. Ah, peccato perché invece è una cosa. Peccato, sì, sì. Relativamente sempre agli ingredienti, appunto avevamo detto gli ingredienti di qualità, alcune gelaterie, e anche lì capire sono artigianali, veramente artigianali, oppure artigianali di tipo industriale, delle catene, no, che sono di gelaterie, hanno dei produttori di cui si tragono vanto, insomma produttori artigianali di alto livello, che hanno delle aziende agricole per il latte, per questo. È importante questo? Avere fornitore, insomma, il biscotto di tali, anziché il caffè da un'altra parte, insomma? Beh, sicuramente è fondamentale, proprio perché più il prodotto di base è di alta qualità, più riusciamo ad avere un prodotto finale che sarà di altissima qualità, che nulla a che vedere proprio con il prodotto industriale, di conseguenza più si alza la qualità, più abbiamo un prodotto che ovviamente difficilmente l'industria può arrivarci, su questo non c'è ombra di dubbio. Fondamentale avere latte, panna, e poi soprattutto per quanto riguarda i sorbetti, la frutta del territorio, che proprio, diciamo così, viene maturata sul luogo, e di conseguenza abbiamo un prodotto di altissima qualità, insomma, in questo senso. Faccio sempre le vacanze all'estero, essendo goloso di gelato, non me lo faccio mancare, ma la qualità di quello italiano è introvabile. Eh, cos'è questa cosa? È che noi abbiamo un gusto particolare, quindi quello italiano, quello italiano, oppure che all'estero non lo sanno fare? Anche gli italiani stessi, che poi vanno a produrre all'estero, per carità, meno peggio di altri, però non ce la fanno. È come andare a mangiare a un ristorante italiano all'estero? Il paragono è sempre quello, più o meno, penso. È ovvio che in Italia si mangia un prodotto che è molto più italiano, perché comunque noi abbiamo un gusto che è diverso dal resto d'Europa. Se vai a mangiare il stesso gelato italiano fatto magari in Germania, lo troverai senz'altro diverso, perché là hanno un gusto diverso. Noi conosciamo i nostri colleghi che lavorano in Germania e fanno dei gelati... Che si assecondino il gusto del pop, di una persona del posto, quindi devono modificare gli ingredienti. Tra noi e la Sicilia c'è una bella differenza, perché noi abbiamo un gelato generalmente più grasso e meno dolce, mentre in Sicilia hanno un gelato più leggero, ma molto più dolce, perché sono più abituati al clima e anche abitudini culinarie diverse. Prego. Beh, diciamo che proprio non esistendo una scuola, e poi alla fine all'estero è difficile trovare dei gelatiri formati. Ci sono qualche eccezione, io faccio anche docente nella scuola, ed effettivamente quelli che sono andati all'estero hanno avuto successo, ma sono, diciamo così, dei casi isolati, proprio perché non c'è un movimento massiccio di gelateria all'estero. Faccio un esempio abbastanza banale. Nel nostro pianeta ci sono 78.000 gelaterie, 39.000 sono situate in Italia, e c'è un perché, nel senso che proprio l'Italia è la patria del gelato artigianale. Dobbiamo cercare di esportare il nostro prodotto, ma dobbiamo esportare qualità. Purtroppo tanti gelatieri vengono formati da aziende che vendono prodotti o semilavorati, cosiddetti speedi, pronti, e di conseguenza pensano in qualche maniera di essere già formati come gelatiere, ma sono ben lontani da avere un prodotto di qualità. Hai detto semilavorato, che era quello che dicevo prima, questo prodotto della base. Però questi semilavorati benedetti sono artigianali, sono industriali, e tantissimi gelatieri artigianali ne fanno uso? Sì, attenzione, bisogna fare una distinzione, nel senso che, faccio un esempio, la pasta di nocciola pura del Piemonte è un semilavorato, ma questo è un semilavorato di altissima qualità. La pasta di pistacchio di Sicilia o di Bronte è un semilavorato, ma questo è un semilavorato di altissima qualità. Ah, quindi si usa la pasta lavorata, anziché mettere il pistacchio, che è vaccinato. No, bisogna usare la pasta proprio perché il pistacchio crudo così non può essere, diciamo così, lavorato nel gelato e si utilizza, diciamo così, una pasta di nocciola, una pasta di pistacchio, una pasta di mandola. L'importante è che sia di altissima qualità, per cui ci sono dei semilavorati, che sono di qualità e che aiutano moltissimo il gelatine nel suo lavoro. Ci sono degli altri semilavorati, citava per esempio prima Alberto, non so, può essere una purea di zucca aromatizzata al pistacchio e colorata di verde e tranquillamente un gelatiere anche all'estero può fare tranquillamente, dichiarare che è pistacchio, però quello di pistacchio non ce n'è purtroppo dentro, insomma, in questo senso. Per cui bisogna fare una netta distinzione tra un prodotto di qualità e un surrogato o addirittura un aromatizzato. Allora, andiamo ancora di più, adentriamoci come riconoscere al palato, alla vista, un buon gelato, quindi dire questo è un buon gelato, quest'altro invece mi attira, mi attira, mi attira, ma forse non è così sano, salube, artigianale. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.